Allora, adesso sono fuori al mausoleo dedicato a Mao Zedong, al momento è chiuso, a quanto letto dal cartello, questo cartello cinese dice che è aperto dal martedì alla domenica, però solo dalle otto a mezzogiorno, quindi adesso sono le due del pomeriggio, non è possibile accedervi. Accanto possiamo vedere queste costruzioni che sono i monumenti agli eroi della Cina e niente, continua ad essere uno scenario incredibile perché è un posto enorme, 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 non pensavo che fosse così grande, le varie foto non rendono giustizia, anche perché questa è tutta ancora piazza cinanmen. Niente, per ora basta così, poi esploreremo la città proibita dalla mattina presto perché mi hanno detto che il giro è lungo, adesso me ne vado a Wanfungin che è una zona commerciale di shopping, magari vado anche a mangiare che sono ancora digiuno.